Signor giudice, siamo certi che Licio Gelli non è all'ufficio e nemmeno nella villa. Qualcuno ha saputo della vostra presenza ad Arezzo? Lo escludo, abbiamo dormito in località segreta. Allora procedete. Al, non può entrare nessuno. Questa è meglio farla passare. Il capitano lo sa? No, ma è la segretaria di Gelli. Ma che cosa fate? Ma questi sono materiali diplomatici. Sono documenti segreti. Gelli è consigliere economico dell'ambasciata argentina. Ma per favore, signora. Potete toccarli. Se superate delle altre fra... un istante. E' inaudito. Sì, 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 insisto. Devo parlare immediatamente col generale. E' urgente. Sì, di comunisti. Un attimo. Ma noi li bloccheremo. E' di vitale importanza. Lo trovi. Ha capito. Due, tre, ecco. Sì? Finalmente. Se Gelli è qui, un attimo glielo passo. Generale, mi stia bene a sentire. Sì.